Oggi 13 dicembre 2016 siamo riuniti in CISL con tutti i colleghi di Polizia Vocale d'Italia e abbiamo dato avvio al coordinamento nazionale Polizia Vocale per la CISL. È una giornata importante, oggi abbiamo dimostrato qui in Piazza del Centrumi davanti al Senato per rivendicare quei diritti calpestati dalla politica, per rivendicare tutti quei diritti a cui oggi la Polizia Vocale viene in qualche modo depratata e per rivendicare soprattutto la professionalità di tanti e tante lavoratrici della Polizia Vocale d'Italia, per rivendicare professionalità, attaccamento alle comunità, per rivendicare tutte quelle cose che ogni giorno ci vengono tolte sebbene non siamo talmente importanti nella vita delle comunità stesse. Rivendichiamo diritti, rivendichiamo un giusto salario e rivendichiamo anche quel turnover che permette alle Polizie Vocale d'Italia di superare quel blocco che ormai sta uccidendo brutalmente i gruppi delle Polizie Vocale d'Italia. Sì, sì sì. Sì, sì sì. Grazie a tutti.